5 Lunedì 19 novembre, San Fausto di Alessandria è il 323esimo giorno dell'inizio dell'anno, ne mancano 42 al termine il sole sorge alle 7.15 e tramonta alle 16.40 la luna si leva alle 15.09 e tramonta alle 2.33 giornata di freddo eccezionale la neve ed il freddo accompagneranno i veneziani per i mesi di novembre e dicembre e sulla laguna gelata si potrà transitare a piedi fino alla terraferma le previsioni per domani molte nubi a fronte di qualche possibile parziale schiarita potranno verificarsi alcune fasi di precipitazioni da sparse a locali deboli salvo occasionali rovesci al mattino limite delle nevicate sui 400-700 metri con minima di primo mattino ventilazione nord-orientale temporaneamente anche significativa specie in quote sulle zone costiere le temperature aumenteranno riguardo alle minime sull'entroterra pianeggiante per il resto subiranno contenute variazioni di carattere locale a Grazie a tutti.